Secondo esseroconda, senza martiricci aionda, che a Milena, in provincia di Calcanissetta, alla Bavaratoio Musa, c'è una leggenda. La volete sentire? Perché, presso la fondana di Musa, ogni cento anni, si svolge la grande fiera degli Esperede. Gli Esperede vengono da ogni parte della valle e danno vita alla fiera stessa con inizio poco prima della mensannotte. Certo che questa fiera, vista dall'esterno, dura per un tempo abbastanza breve, ma so' uno peppo da caso. Se ci fosse denso, il tempo pare che si ferma gioco, tutto un angoppo. Nella valle di Musa, tutto si illumina al giorno e ogni parte compaiono barracche e baracchini, venditori e ambulanti che vanno girando per la fiera, giocolieri di ogni specie che rallegrano la festa, gente che gira, ammirata per tutto il gran ben di Dio che viene esposto in ogni dove. vicino alla vallata, mangrie di buoi e di pecore, pastori, bovari, pronti a vendere, che discodono, i ettono vuci, si scaldano ed elogiano la loro merce, come del resto fanno tutti i venditori. Se Budagasso, dico Budagasso, una persona, si avessi a trovare in mezzo alla fiera, a così per puro caso, e avesse Piccasode nella sacchetta, potrebbe comprare qualsiasi cosa che ci piace, e alla fine, avere la sorpresa di vedere trasformata la merce comprata in oro zecchino. Pirandello diceva, così esse vi pare, io come ogni condo e leggenda siciliana, prego, larga la foglia, stretta la via di dalla vostra, che io ho detto la mia.